Iveri è un piccolo centro del Nolano con circa 1600 abitanti, caratterizzato dall'artigianato della cera. Il Santuario Mariano di Santa Maria a Parete è sorto in seguito ad un'apparizione della Vergine Maria avvenuta il 13 aprile 1514 ad una fanciulla del luogo, Autilia Scala, e contiene un tempietto dedicato alla Vergine e addornato di pitture di Belisario Corenzio. La casa religiosa e il Santuario passarono ai frati minori nel 1894.